Buongiorno, buongiorno, perdonate il ritardo ma ha tardato un pochettino con la lezione dei vostri compagni Quarta B e purtroppo è qualcosa che accade, può succedere. Buongiorno, buongiorno ragazzi, lo dico anche qua, ovviamente gli esercizi che vi do, il voto non fa media perché comunque ancora non possiamo fare valutazioni e a me interessano più che la valutazione, a me quello che interessa è controllarvi e vedere quanto avete appreso e assimilato dei testi che stiamo facendo. Ho notato, controllando e correggendo i vostri esercizi, che molti, ma non tutti, come iperbole avete scelto un iperbole del testo che abbiamo fatto precedentemente. E io ve l'ho segnato come errore, però ci sto ripensando, probabilmente non avete compreso la consegna, quindi è un po' ingiusto segnarlo come errore. L'importante è che avete compreso cos'è un iperbole. Alcuni hanno preso citazioni dal libro, più o meno rielaborate, io preferisco quando sono più rielaborato perché ci dovete lavorare. Mi pare nessuno fortunatamente abbia preso da internet perché in un'altra classe molti hanno risposto su internet e io lì sono tassativo. Se vedo una risposta su internet o una risposta ripresa, troppo. Cioè ci vuole un minimo di rielaborazione. Un'altra cosa, purtroppo WeSchool mi fa solo dire se la risposta è giusta o corretta, non posso valutarla. Quindi il voto che vedete lì è un voto molto virtuale, è virtuale nel senso che non è di merito, è banalmente sì, questa va bene o non va bene. Per questa ragione, anche per questa ragione non è valutato, cioè non va in pagella per intenderci. Quando avremo delle direttive riguardanti e valutazione che va in pagella, tranquille e tranquilli che ci organizzeremo e ve lo farò sapere. Al momento ciò che è importante è che voi assimiliate bene le lezioni. Io vi sto paradossalmente dando più compiti rispetto a prima perché non posso guardarvi negli occhi, non so quanto mi stiate ascoltando. O almeno un paio di ragazzi che non sono neanche sicuro che abbiano letto lo stesso testo che io ho spiegato a lezione e io l'ho scritto. E questo è importante che io mi valuti. Temo che stare molto chiuso in casa mi stia dando un raffreddore, però dovrebbe essere solo un raffreddore, tranquille e tranquilli. Ora, oggi già leggete la neoclassicismo e preromanticismo. Prima vi dico due cosine stringate sull'ultimo parini e poi ci spostiamo al nuovo argomento che è quello probabilmente in cui concluderete questo range di lezioni con me, che riguarda il periodo culturale che precede Foscolo e quanto più di Foscolo riusciamo a fare. Foscolo è un autore molto grande. Mi raccomando, metallo, non usate la plastica. Quanto, non ho idea di quanto la professoressa Maida voglia impegnare con Foscolo, perché poi dopo di lui avrete solo manzoni e manzoni importanti ma li avete fatto al biegno. Se fosse per me fareste molto più Foscolo, però non lo so. Fin quanto ci sono io comunque Foscolo, Foscolo. Ma per capire Foscolo dobbiamo intanto aver ben chiari chi siano stati i parini alfieri e poi aver ben chiaro i grandi cambiamenti che avvengono in Europa tra 700 e 800. Prima di tutto però vi dicevo, prima di tutto però vi dicevo, buongiorno, buongiorno, ma più o meno mi pare che ci siate tutti, ma io faccio comunque l'appello. Io vedo nove iscritti, probabilmente sì, ma probabilmente mancano due persone, li devo individuare e non mi carica nemmeno la pagina. Ah, ottimo, ottimo, stranamente non è... Eh, quello è un problema però già, però è un problema che c'era comunque. Io non vi leggo in chat, ma vediamo se non ci sono problemi come l'altra volta. Allora, ho parlato al vuoto, no, lo streaming è attivo, ci siete, ok. Ok, 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 e io per qualche... Perfetto, scusate, perfetto, ottimo. Ok, ci siamo tutti, scusatemi, scusatemi. Ve l'ho detto per qualche ragione. Quindi, dai, senza perdere... Without... Otteradu, senza perdere altro tempo. Intanto scrivo a Giada, mi spiace. Potrai vedere il video dopo. Allora, ultimo parini. Perché vi parlo dell'ultimo parini? Perché spero che vi sia rimasto di parini l'idea di un intellettuale molto battagliero, molto militante, molto, come dire, impegnato in una lotta che è quella per migliorare la sua società. Da una parte dando maggiore risalto alla scienza, una scienza che non veniva ancora del tutto accettata dalla società della sua epoca, e quindi abbiamo le odi illuministe, come quella dell'inizio del vaiolo di cui vi ho parlato, la salubrità dell'aria, che giustamente alcuni di voi mi hanno commentato essere molto vicina alla causa ambientalista dei nostri tempi, o a quello che sta succedendo per il cvirus. Insomma, sono odi molto attuali. Dall'altra parte c'è questo Giovin Signore, questo Il Giorno, che è un poema più satirico, dove l'ironia e il sarcasmo sono utilizzati per correggere i vizi della nobiltà. E vi ripeto, come dire, Parini non va e non può andare contro le gerarchie sociali. Lui non è per una parolina di cui vi parlerò oggi, cioè non è un giacobino. Chi sono i giacobini? Sono quelli... Li avrete fatti in storia, ve lo chiedo. In storia, dove siete arrivati? L'avete fatta la rivoluzione francese? Penso di sì. I giacobini sono quelle frange estreme dell'illuminismo francese che durante la Repubblica, durante, scusatemi, la rivoluzione del 1796, volevano l'instaurazione della Repubblica e l'instaurazione dell'equità sociale. Volevano abbattere la nobiltà, confiscare i beni e darli tutti ai poveri, detto in maniera molto, molto banale. Parini non è un giacobino. Parini ritiene che la nobiltà debba responsabilizzarsi, debba riprendere... Benissimo, siamo in parallelo, molto meglio, molto bene. Debba responsabilizzarsi, debba ritornare a certi modelli, quei modelli che Parini trova nelle altre frange popolari. Cioè, quando nei suoi poemi, quando nel primo brano che abbiamo letto, Parini vi parla del mattino, non del giovinsignore, ma del contadino e del fabbro, per farvi capire che il giovinsignore dovrebbe comportarsi come loro, cioè svegliarsi la mattina e lavorare. E quali sono i lavori del giovinsignore? Lo ha detto sempre con l'ironia, qualche verso prima. Marte o Atena, o combatti o studi. Ora, il meccanismo di questa ironia, questo sono contento che l'abbiate compreso, è l'iperbole, usare le parafrasi, delle enormi giri di parole per indicare, per gonfiare la vanità, il vuoto, della vita nobiliare, della frivolezza nobiliare. Tutto questo, verso metà del secolo, va a concludersi. Mi pare di avere una slide al riguardo. Ci arrivano affettuosi auguri a tutti Giuseppe e tutte Giuseppine, quindi vedrò di rinnovarli anche io. Se c'è qualche vostro parente che si chiama Giuseppe o Giuseppina, ha i miei più sinceri auguri. E mi raccomando, fateli anche voi. Allora, Parini, 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 dove è finito Parini? Dove l'ho messo qua in quartà? Da metà del secolo, tutto quello che vi ho detto su Parini va a cadere, perché metà del secolo, andiamo un poco, c'è un cambiamento abbastanza grande, eccolo qua, abbastanza grande in... lo copro io, scusatemi, eccoci qua. Come vi ho detto, Parini lavora sotto l'imperatrice, nel governo milanese dell'imperatrice Maria Caterina, che è una despota illuminata. Questa è una categoria storica e l'avrete fatta sicuramente. Cioè, sono quei governanti assolutisti che mantengono tutto il potere dello Stato su di loro, ma si accettano, accolgono gli aspetti più moderati del pensiero illuminista. Maria Caterina è quella che fa in età del vaiolo, quella che fonda la prima scuola pubblica di Milano, che è l'Accademia Palatina, dove lavora Parini. e lei integra nell'amministrazione milanese tanti intellettuali, ma tutti quelli che avete già incontrato, Iverri, Cesare Beccaria, Parini stesso, lavorano nella... nella municipale, scusatemi, nell'amministrazione milanese. Questo finché non arriva Giuseppe II. Giuseppe II, il figlio, il nuovo imperatore, e lui cambia un po' le cose, lui accentra maggiormente il potere su di sé, allontana alcuni intellettuali, smette di fare ciò che faceva la madre, cioè circondarsi di buoni consiglieri. lui si ritiene in grado di prendere decisioni razionali da sé senza il bisogno di nessuno. e quindi quel contatto che c'era tra intellettuali illuministi moderati ovviamente e governo assolutista si spezza. chiaro su questo? e perché deve essere chiaro? perché in questo periodo tra 700 e 800 l'intellettuale comincia ad avere un profondo cambiamento che, che per certi versi culmina col fine dell'ottocento con la perdita dell'aureola, cioè smette di avere un ruolo sociale. tornati indietro del tempo, tornate a un Petrarca, a un Dante, a un Boccaccio, a un Guicciardini, a un Ludovico Ariosto, intellettuali che avete studiato, hanno sempre avuto un ruolo all'interno della società. da una parte come poeti, quindi come autori che possono interpretare la realtà, e dall'altra come amministratori, politici, insegnanti, Petrarca è un segretario di un cardinale, Dante è uno dei politici italiani più straordinari che siano mai esistiti, Ariosto, Guicciardini e Machiavelli si alternano, meglio detto, al governare Firenze, perché Machiavelli è repubblicano e Guicciardini invece è vicino ai medici, quindi quando ci stanno i repubblicani c'è Machiavelli e quando ci stanno i medici c'è Guicciardini, è una roba divertente, e poi erano amici, una cosa divertentissima. Chiaro, deve essere chiara questa cosa, perché nel Settecento, anche nel Settecento, più o meno, con questa storia del dispotismo illuminato, c'è un contatto fra intellettuale e società, l'intellettuale ha un ruolo nell'amministrazione sociale, comincia a rompersi, comincia a rompersi. Parini perde il suo ruolo all'interno di Milano e questo lo fa cadere nello sconforto. Lo sconforto è tale che lui si avvicina a una corrente letteraria di cui vi parlerò molto oggi, che è quella del neoclassicismo. Qua c'è una slide che qua riassumeva, perché pensavo di farvela prima questa lezione, ma adesso la faccio in lungo. Perché ho scritto semplicità? Che bello è che faccio questi errori, semplicità come all'inglese. L'idea è che Parini, di ripeto, deluso dal governo di Giuseppe II, giusto? Quindi auguri, auguri imperatore Giuseppe! Parini, deluso dal governo assolutista di Giuseppe II. Poi nel mezzo c'è la rivoluzione francese, arriva Napoleone, Milano passa, c'è la municipalità di Milano, insomma deluso da tutti questi cambiamenti sociali e avendo perso il suo ruolo sociale, fa quello che non voleva fare, cioè fugge. Fugge dalla realtà, si rinchiude in una poesia neoclassica che purtroppo è meno polemica. È meno polemica perché lui ricerca, in quei valori di cui parleranno in quel periodo Wilkenman, cioè nella nobile semplicità, nella calma grandezza dell'arte classica, un modo per sopravvivere a dei tempi molto turbolenti. Questo non so se vi è chiaro, ma vi deve essere chiaro. Mettiamola così. Ci sono gli ultimi versi della salubrità dell'aria. Vediamo, la trovo subito. che sono particolarmente importanti. Va per negletta via, ognò l'util cercando la calda fantasia che il sol felice quando l'utile unir può al vanto dilusinghevo il canto. Cosa vuol dire quest'ultima strofa? Vuol dire che Parini nei versi precedenti ha descritto, sto ritornando alla salubrità dell'aria, la salubrità dell'aria ricorderete che sono alternate delle visioni di una campagna bellissima, dove si respira un'aria bellissima e ci si può rifugiare, e poi la città sporca e maleodorante. Ora, dovete capire che c'era una frangia di cultura all'epoca, quella dell'Arcadia, che si rifugiava all'interno di immagini pastorali per fuggire dalla realtà, da una realtà difficile. A Parini questo non va bene, ve l'ho spiegato, eh? Vi ricordate il discorso riguardante lo stare nel mezzo tra poesia e prosa utile? Per Parini la poesia deve avere uno scopo utile, ognuno l'util cercando, deve, diciamo, spostarsi dall'Arcadia e ritornare alla città di Milano, ai problemi di Milano. E quest'ultima strofa significa proprio questo. Io che dovrei stare, io per gli arcadici dovrei stare tra i miei pastorelli a respirare l'aria buona, no, io ritorno a Milano, la Milano dove c'è gente che butta i liquami per strada, perché devo denunciare quella società. questo nell'ultimo periodo della vita Parini smette di scrivere poesie in questo senso. Lo fa perché è deluso dalla società. Chiaro? Datemi qualche input, non mi vedo scrivere, ma magari è la chat di YouTube. Perfetto, bene Alessandra, sì, la chat di YouTube non sta funzionando, bene, bene. E perché vi ho detto questo? Io vi ho detto anche un'altra cosa scorsa volta, cioè che il giorno è stato scritto due volte. la prima volta è quello che abbiamo letto con questi enormi iperboli, questi giri di parole e via dicendo, che nelle pubblicazioni ultime del fine secolo non ci sono. Cioè Parini alla fine della sua vita riprende mano, riprende a leggere il giorno e lo corregge secondo gli stilemi del neoclassicismo. Nobile semplicizza alcune di queste iperboli facendo cadere però il valore polemico. Perché lo fa? Lo fa perché adesso non è più importante mi fa ridere troppo Panda e Gatto Gaming però ci sta Antonio ci sta mi raccomando iscrivetevi tutti a Panda e Gatto Gaming se non vedo dieci persone più iscritte al suo canale vi metto una nota sul registro. Parini semplicizza molto il giorno nelle ultime redazioni devo mettere un gruppo di Whatsapp assolutamente in silenzioso perché stanno arrivando solo auguri che al momento non sono rilevanti auguri a tutti i papà io sono single e questo quindi non mi interessa al momento e non mi chiamo neanche Giuseppe mi raccomando fate gli auguri al vostro padre esatto Alessandra sì lo riscrive nel periodo del neoclassicismo che di cui adesso vi parlo meglio e lo riscrive semplicizzando questi iperboli andando a perdere il valore polemico perché non è più importante non è più tempo di fare polemica Parini non crede più che la poesia possa cambiare le sorti della vita adesso crede di dover scrivere una poesia bellissima equilibrata calma grandezza armonica eccetera sostanzialmente per il proprio solo per l'arte in sé cioè solo per il piacere di scrivere un'opera perfetta senza più quell'impegno civile che c'era prima e questo avviene perché viene deluso dai cambiamenti storici a partire da un Giuseppe secondo che trancia il contatto fra intellettuali e amministrazione e andando poi a espandersi con la rivoluzione francese che è una rottura totale di di quel contatto che c'era fra nobiltà popolo e via dicendo chiaro? perché vi faccio questo discorso? perché centrale è la questione oggi affrontiamo una questione in realtà molto complicata io qua vi ho scritto neoclassicismo e pre-romanticismo perché? perché il neoclassicismo è una una corrente letteraria e artistica che nasce in Italia più o meno si ritrova si spande per tutta Europa un po' come forma di cultura ufficiale accademica e quella che si insegna nelle università il pre-romanticismo invece nasce l'avete forse l'avete fatto in inglese dove siete in inglese l'avete fatto Blake e io ve lo chiedo quanto volte vi chiedo se avete fatto Blake ve l'ho chiesto un sacco di volte perché mi fa impazzire Blake dove siete in inglese perché il romanticismo invece nasce proprio in Germania e in Inghilterra come forma di opposizione aspettate mi metto pure io dicevo il neoclassicismo nasce in Italia e si spande per tutta Europa soprattutto la Francia come forma di cultura ufficiale il romanticismo nasce in Germania e in Inghilterra le radici però sono in Francia come forma di opposizione al neoclassicismo cioè sono due correnti all'antitesi non fosse che hanno un elemento in comune questo elemento è la storia cioè quello che sta succedendo in Europa porta alcuni intellettuali a essere neoclassici altri a essere romantici e noi poi avremo un intellettuale Ugo Foscolo che è classico come penna e romantico come spirito e entrambe le cose quindi io vi devo spiegare entrambi i movimenti per questo perché Ugo Foscolo è un intellettuale molto sottovalutato in realtà a livello europeo soprattutto ma che riesce a congiungere due spiriti che non dovrebbero essere congiunti quali il neoclassicismo e il romanticismo siete a che? Kitz è un altro Kitz è il Ugo Foscolo inglese nel senso che lui pure come penna come poesia che vi fa come scrittura l'ode onorne greca è estremamente neoclassico ma dentro di sé ha una sofferenza ha una passione ha dei sentimenti più vicini al romanticismo inglese questo me lo insegnate voi perché io Kitz purtroppo non l'ho studiato né al liceo né all'università più o meno lo conosco c'è tutto quel senso del tempo che passa della bellezza passata che ormai rimane nell'antica Grecia e non c'è più nel mondo attuale in Kitz ma potrei dire in Byron potrei dire in altri autori romantici che cos'è questo? è un modo per dire a me il periodo sette-ottocentesco non piace non ci trovo più bellezza nel mondo sette-ottocentesco a questo non ci trovo più bellezza è comune quanto a molti scrittori che scriveranno versi neoclassici che a molti scrittori che abbracceranno invece il romanticismo c'è un'origine comune quindi come al solito qua non le leggerò tutte le slide anche perché siamo già a meno un quarto ma però ve le lascio le carico dopo ve le potrete studiare io in questa slide vi voglio far notare come già Parini e Alfieri sono anticipano i tempi soprattutto Alfieri Parini lo abbiamo visto e comunque lui si ispira molto ai classici a Orazio sia come scrittore di Carmine di Carmina cioè di Odi che come scrittore di Satire Alfieri io c'è una cosa che non vi ho detto che Alfieri sia un po' romantico ve ne avevo già parlato eh ricordate che Alfieri dentro di sé c'ha un da una parte ve lo ricordate Alfieri ragazzi e ragazze vero? da una parte ha questo conflitto non si trova bene nel suo mondo che è il conflitto essenziale per il romanticismo dall'altra però quello che non vi ho detto è che intanto scrive opere tragiche quindi appartenenti alla tradizione greca non vi ho detto come lo faceva perché Alfieri seguiva un un processo ma veramente strutturato e rigido prima scriveva l'opera riassumeva l'opera faceva il soggetto poi scriveva le varie battute dei personaggi in prosa e solo alla fine scrive traduceva quelle battute in prosa in versi in decasillabi e lui andava proprio schematico questo facendo dormire tra virgolette i testi in un cassetto faceva un lavoro che tanto per cambiare Orazio avrebbe chiamato di laborlime Orazio diceva tu la poesia la scrivi una volta e poi la fai dormire per nove anni al tuo cassetto in questi nove anni la prendi e la riscrivi tante volte finché non è perfetta quindi Alfieri dentro di sé ha uno spirito guerrer che gli rugge direbbe Foscolo cioè ha una un profondo conflitto uno spirito veramente tormentato ma appunto perché tormentato cerca di darsi rigore e questo rigore è classico quindi veramente Alfieri e Parini sono i due papà il genitore uno e il genitore due di Foscolo sono i due grandi modelli di Foscolo qua vabbè Accademia Trasformati vediamo lui piuttosto lui lo avrete fatto l'avete studiato Wickelman in storia dell'arte perché lo faccio più in fretta intanto che ci pensate vi dico qua un'altra cosa non vi ho detto su Parini lui faceva parte di un'accademia quella dei Trasformati anche l'Accademia dei Trasformati voleva una certa e una precorre i tempi del neoclassicismo nel senso che loro volevano la ripresa del modello classico dell'equilibrio classico però fondendolo con l'illuminismo moderato esattamente come fa Parini però l'uomo che cambia un pochino tutte le cose è Wickelman a metà secolo ora io la vita sua non ve la leggo tutta l'importante è sapere che anche se è una storia interessante perché lui ad esempio non riesce mai a laurearsi ma ha una cultura spropositata no è strano strano in storia dell'arte dove siete arrivati l'avete fatto Della Croix Della Croix è Della Croix è lui per intenderci ma è lui ma è anche l'autore è il grande cantore fra virgolette del come si chiama della rivoluzione francese Della Croix ha fatto un bellissimo dipinto sulla morte di un illuminista francese adesso non ricordo il suo nome quindi è importante non avete fatto neanche Della Croix va bene è normale lo farete tra poco quindi avete un po' di anticipazioni allora in breve perché poi lo riprenderete in storia dell'arte Wickelman è l'inventore dell'archeologia lui studia l'arte classica a Roma in quel periodo ci sono degli scavi archeologici viene scoperta Pompei e lui a Pompei studia la magnificenza dell'architettura romana e dell'architettura e dell'arte greca e davanti questa magnificenza lui esprime dei giudizi molto forti che influenzeranno tutto il secolo questo l'ho scritto ciò che va a vedere ciò che loda dell'arte classica sono due elementi da una parte il fatto che sicuramente nelle statue lui faceva l'esempio del dell'Auconte guardate l'Auconte vediamo se si vede da UBS lui era innamorato dell'Auconte questa statua che si trova mi pare alla galleria borghese di Roma forse mi sbaglio comunque era innamorato pazzo di queste e di altre due statue lui la vedeva e diceva guardate dietro questa statua sicuramente c'è un'anima tormentata perché c'è un uomo che sta morendo con i suoi figli c'è un uomo lo vedete l'espressione stravolta del viso che combatte fino all'ultimo contro questi serpenti per sé e per i figli non vuole morire e non vuole che accada lo stesso ai suoi figli ma dall'altra questa passione controllata attraverso una una tecnica formale molto equilibrata vedete come l'Auconte il corpo di l'Auconte riempie lo spazio voi che fate storia dell'arte avete studiato composizione più di me se noi pensiamo una composizione quadrata ok vedete come l'Auconte braccio e gamba di l'Auconte formano una diagonale vi divide lo spazio e vedete come in una di questa diagonale c'è un figlio e nell'altra c'è l'altro figlio mi state seguendo e vedete come il figlio sulla sinistra ha la schiena spinta verso l'indietro il figlio a destra invece spinta verso avanti cioè vedete come lo spazio è equilibrato come c'è simmetria tra i corpi come l'Auconte con il braccio e le gambe forma una sorta di di x mi state seguendo lo so che è storia dell'arte sono come dire fuori dalla mia materia ma mi state seguendo perché sono così in alto io mamma mia l'impostazione è messa male sto attendendo qualche vostro commento perché non voglio fare dei discorsi che poi non comprendete cioè io non so se riesco a trovare l'Auconte l'Auconte bu schema compositivo vediamo se c'è eccolo qua e questo è fatto anche meglio non ci avevo pensato fosse così complicato così interessante no l'Auconte non è un'opera di Michelangelo dovrebbe esserci un'opera bu va bene più o meno ci siamo ok perché vi sto spiegando tutto questo questa storia dell'arte perché per Wickelman da una parte da una parte ci sono le passioni l'opera d'arte è figlia di passioni ma dall'altra queste passioni sono controllate dalla ragione sono espresse con un ricercato equilibrio formale che è quello che vi dicevo prima la X la simmetria dei corpi e via dicendo in modo da dare diceva Wickelman una nobile semplicità e una quieta grandezza e c'è questa espressione che secondo me è bellissima l'opera d'arte greca è come la profondità del mare in superficie immobile quali passioni però ci sono all'interno non lo sappiamo ci sono di sicuro ma non lo sappiamo l'idea quindi è che l'artista neoclassico poi con i suoi studi successivi soprattutto storia dell'arte classica dell'arte antica che ve lo farà la professoressa di storia dell'arte perché vi cambia tutto tutto storia dell'arte antica di Wickelman impone questo nuovo ordine alla storia agli artisti e ai letterati dell'Europa da una parte dobbiamo riprendere i modelli classici dobbiamo imitare i modelli classici imitare è un verbo se aveste fatto un po' di letteratura latina lo sapeste i letterati latini dicevano spesso bisogna imitare i greci ma non emularli vuol dire che devi sceglierti un autore classico un autore greco romano più greco che romano da quell'autore devi carpire tutte le sue soluzioni formali devi capire devi scrivere tante poesie come questo autore greco per capire come riusciva a scrivere quali tecniche chiasmo ditologia parafrasi e via dicendo utilizzasse per dare questa idea di quieta grandezza ma non devi fare una copia non l'avete fatto ma lo farete lo farete storia dell'arte dove siete che artista state facendo in storia dell'arte ragazzi e ragazze per capire se lo avete saltato o lo andrete a farlo mi secca pure spero di non starvi annoiando però non ve lo posso evitare perché la storia dell'arte e la storia della letteratura in questo periodo sono pappeciccia voi fate dell'artistico dicevo imitare vuol dire scegliere un modello classico dal quale prendere le soluzioni formali ti metti ti scrivi tante poesie come le ha scritte Orazio ma non scrivi poesie non fai delle copie di Orazio tu non copi quelle poesie parlano comunque del tuo cuore dei tuoi sentimenti noi vedremo in Foscolo Foscolo scrive una poesia stupenda in morte del fratello adesso non ricordo come si chiama è scritta con delle soluzioni simili a quelle di Catullo Catullo in una delle sue poesie ha scritto una lunga poesia su un suo amico morto davanti alla tomba il suo amico morto gli ha detto delle certe cose che poi affronteremo meglio dopo Foscolo fa lo stessa identica cosa per il fratello che è caduto in una guerra greca cita proprio dei versi da Catullo ma è evidente che Foscolo esprime una nostalgia per la patria un sentirsi esiliato e senza un posto dove andare molto diverso da quella di Catullo nuova perché Foscolo è un uomo del suo tempo e lui prende dei trucchetti usati da Catullo per esprimere la propria anima ok? siete a Tiepolo io Tiepolo non so chi è perché sono un ignorante mi spiace siete a Tiepolo l'importante è che ci siete ora tutto questo il libro vi dice vabbè questa storia dell'arte poi andrà come dire a influenzare a pittori come Della Croix e tanti poeti e scrittori che soprattutto a livello linguistico riempono la poesia di termini aulici e latineggianti e questo ci siamo chi è Tiepolo? abbiamo ancora un quarto d'ora dai dai che ce la facciamo ora qual è il problema? qual è l'elemento interessante? il libro giustamente vi dice per certi versi il neoclassicismo non è una grossa novità in Italia perché l'Italia è un po' tradizionalista l'Italia è dai tempi dell'Arcadia che scrive poesie classicheggianti e che come dire non si aggiorna mentre l'Europa sta scoprendo nuove forme di letteratura che sono quelle del romanticismo l'Italia no l'Italia rimarrebbe indietro perché uso il condizionale perché non è tanto vero ma per farvi capire cioè il libro molti critici che io non posso andare qui a contestare dicono che il neoclassicismo è stato un modo con cui l'Italia è rimasta indietro rispetto al grande periodo storico letterario europeo che è il romanticismo noi vedremo assieme un po' oggi un po' domani sabato un po' lo farete la professoressa Maida studiando Manzoni come il romanticismo vuole un tipo di poesia di scrittura antitradizionale tutta concentrata non sul limitare i classici chi se ne frica dei classici dobbiamo esprimere i nostri sentimenti dobbiamo esprimere i nostri tormenti interiori i tormenti interiori di di Gett ma avete fatto Kids avrete fatto Kids già avete studiato i suoi tormenti era un ragazzino che non stava molto bene se non ricordo male aveva problemi aveva una certa malattia doveva rimanere a letto se non ricordo male aveva un po' di desiderio di vita che non poteva adempire a cui non poteva adempire credo avrete fatto Byron Byron non c'era voglia di andare a menare le mani è andato a morire in Grecia quindi ma se no possiamo pensare ad Alfieri al grande conflitto che aveva Alfieri ecco per i romantici è questa interiorità soggettiva che va espressa e quindi con tu lasciando pieno potere alla propria carica soggettiva e irrazionale e quindi scrivendo dei testi che sono molto diversi che vanno contro il classicismo e per molti il neoclassicismo italiano è stato un ostacolo io non lo so se vi convincerò ma non credo che sia così io credo che i grandi autori del neoclassicismo italiano comunque nel loro cuoricino sono stati romantici questo vale soprattutto per Foscolo ma anche per Pindemonte Monti Cesarotti i nomi che vi ho citato lì loro hanno utilizzato la poesia neoclassica per controllare le passioni romantiche che avevano nel cuore con un effetto straordinario che poi vedremo in Foscolo qual è come in Foscolo i contrasti interiori emergano all'interno dei versi da piccoli dettagli è splendido e quindi è difficile dire che Foscolo che la letteratura italiana di questo periodo è provincialotta perché non ha scritto come ha scritto in maniera pedisseca come ha fatto un GET un UGO un OVALIS è sbagliato è sbagliato dirlo a mio parere ora in questi 13 minuti intanto vi chiedo è tutto chiaro? fino a qui è tutto chiaro? parlo soprattutto con quelli che io ho visto ho corretto gli esercizi su Parini e non mi sono sembrati chiarissimi cioè non voglio fare nomi ma per favore non state qua a imboccarvi le mie lezioni io non vi posso vedere negli occhi non posso sapere neanche se state seguendo o meno almeno finché non provo zoom e non ci spostiamo su zoom e voi dovete continuare a imparare quindi ve lo ripeto è tutto chiaro? questo discorso che non è semplicissimo purtroppo è chiaro Maria e sono contento Maria perché Maria ho visto gli esercizi andavano bene Alessandra non ne parliamo ho fatto ho trovato delle riflessioni molto belle su Parini però deve essere chiaro non deve essere un sì 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 vai tranquillo professore tutto no voi prima o poi vedete valutati su tutto questo non è detto che sarò io a valutarvi perché ancora dobbiamo attendere direttive deve fare consigli di classe c'è tutta una burocrazia che dobbiamo quindi se non vi è chiaro adesso che c'è qualcuno che vi può spiegare quando sarà il momento della valutazione è peggio per voi è un po' confuso ecco Luisa grazie preferisco che qualcuno mi dica è un po' confuso perché così chiarisco è un po' confuso perché vi manca un pezzo questo pezzo riguarda il romanticismo perché fino a vi ho spiegato il neoclassicismo ma vi devo spiegare un pochino cos'è il romanticismo per capire quali sono queste soluzioni formali tutte queste cose qua vi devo spiegare cos'è il romanticismo ora questi dieci minuti poi sabato li riprendiamo da qui il romanticismo è quella grande corrente letteraria che nasce in Europa anche come reazione a dei sconvolgimenti sociali spropositati che riguardano da una parte la fine dell'anzian regime cioè del potere assolutista noi per settecento anni abbiamo avuto un re a dominare in maniera assolutista su tutto il suo dominio ma ecco che già nel seicento per dire l'Inghilterra è una monarchia costituzionale ed ecco che nel settecento grazie all'illuminismo molti stati molti monarchi si stanno rendendo conto che bisogna dare ascolto agli intellettuali ai borghesi e c'è il despotismo illuminato e in Francia quella Francia dove il potere assolutista è più oppressivo sta maturando piano piano la rivoluzione la rivoluzione francese la state facendo ora che cos'è? è un momento in cui nobili ma soprattutto borghesi di Parigi e di tutta la Francia si stancano dell'oppressione dei nobili si sono resi conto che l'uomo tutti i uomini sono uguali hanno dei diritti e quindi ed è giusto che lo Stato riconosca questi diritti di fronte a uno Stato quello di Luigi XVI che non riconosce alcun diritto e che fa morire di fame le persone perché se non ricordo male nell'80 c'era una carenza comunque una carestia di cibo ecco che il popolo di Parigi si ribella ed ecco c'è la rivoluzione francese ecco che il popolo va da re e lo decapita questo è il primo cambiamento sociale spropositato che avviene nel tra 7 e 800 se per sette secoli abbiamo avuto una nobiltà a dominare sul borghesia e sul popolo adesso è la borghesia che si prende il potere d'altra parte in Inghilterra ma poi piano piano in tutta Europa c'è un'altra rivoluzione che è quella industriale la rivoluzione della tecnica ci sono i cambiamenti spropositati che affronterete molto meglio più in là in storia e poi molto meglio l'anno prossimo studiando il verismo e via dicendo come reagiscono gli intellettuali a tutto ciò e come reagiscono gli intellettuali anche a quello che vi dicevo prima cioè al fatto che piano piano non hanno più quel valore all'interno della società alcuni molti si sentono fuori posto e quindi cercano si rinchiudono un pochettino dentro se stessi cercano di dare eco a delle sensazioni tormentate cioè intellettuali io parlo soprattutto degli inglesi dei tedeschi ma piano piano anche degli italiani vivono questi sconvolgimenti e vi nel mezzo di questi fatemi vedere l'ora perché no otto minuti fatemi richiamare un pochettino perché non vorrei fare un discorso troppo confuso da una parte questi sconvolgimenti ovviamente influenza o intellettuali fate finta che c'è stato il coronavirus il coronavirus ci ha obbligato a rimanere in casa e ovviamente c'è tutta ovviamente io ogni giorno vi dico ci apputiamo fare ci apputiamo fare e dobbiamo essere rincuorati e sereni in quello che facciamo perché ce la facciamo sul serio ma è naturale avere dei momenti in cui non ci non stiamo bene non ci sentiamo bene non crediamo di poterci realmente fare in cui ci sentiamo smarriti e disorientati rispetto a quello che sta succedendo attorno a noi e quindi dentro di noi inizia a crescere una certa non dico ansia angoscia ma emozioni sì tristezza rabbia ok gli intellettuali di cui vi sto parlando hanno vissuto pure loro dei cambiamenti spropositati anche loro hanno avuto nel loro interiorità tante emozioni complesse violente forti che si possono sintetizzare nel io non mi sento più a casa in questa Inghilterra in questa Francia in questa Italia come Alfieri prima ma la temperie culturale dell'epoca cioè grandi accademici le grandi università le riviste i libri che dicevano dicevano che tu sei un uomo dotato di ragione e la tua ragione deve controllare queste emozioni deve bloccare queste emozioni ok alcuni intellettuali in Inghilterra a partire dalla Francia in realtà da Rousseau e poi in Germania e Inghilterra di fronte a questa imposizione illuminista e neoclassica del controllo delle emozioni di queste emozioni che crescono per via di questi cambiamenti sociali di cui vi ho parlato a un certo punto non ne possono più come Alfieri si arrabbiano Alfieri ve l'ho detto e si è arrabbiato ha detto l'illuminismo è un secolo tanto ragionatore ma con poca azione idem si arrabbiano e vogliono dare piena espressione ai loro sentimenti vogliono avere un contatto con la realtà più diretto irrazionale vogliono avvicinarsi a quegli elementi della natura della cultura della realtà che sono più forti straordinari e spaventosi spaventosi come le sensazioni che covano dentro è più chiaro così? Luisa parla un po' di tutto di tutti con questo poi ci lasceremo però ho bisogno di questo momento di confronto e sabato lo riprendiamo e passiamo poi a Foscolo è chiaro questo? ve lo ripeto nel modo più schematico possibile da una parte i due cambiamenti storici della fine del potere assolutista e rivoluzione industriale ovviamente creano del tormento nelle anime degli uomini e delle donne europei figurati degli intellettuali degli intellettuali sono caratterizzati da una sensibilità maggiore rispetto all'uomo comune vivono ancor più questi cambiamenti quindi sentono ascoltami Luisa forse così è chiaro sentono dentro di sé tutte queste emozioni che bruciano forti che possono essere sintetizzate nel non mi sento bene in questa Europa in questa Francia in questa Inghilterra è come una pentola che bolle bolle la fiamma sono i cambiamenti storici l'acqua sono le emozioni la cultura illuminista e neoclassica mette un coper io avevo avevo una tazza guardate qui dentro ci sono le emozioni del poeta il fuoco sono i cambiamenti sociali i cambiamenti storici di cui vi ho parlato ecco l'illuminismo e il neoclassicismo dicono le emozioni quelle che stanno bollendo nella tazza vanno controllate con la ragione e mettono il coperchio vediamo se si vede sta cosina e mettono il coperchio ora per ovvi ragioni come tutti quelli che di voi come tutti quelli quelli di voi che cucinano la pasta sanno che se mettono il coperchio sull'acqua a un certo punto l'acqua bolle e il coperchio vola via ecco cos'è il romanticismo? è il coperchio della ragione che vola via il sentimento il sentire dell'uomo romantico che volontariamente trasborda esce via viene espresso dalla poesia che avete già studiato con Kitz con Byron prima o poi con Blake più chiaro così? ditemi se è più chiaro poi chiudiamo e ci vediamo sabato sabato diventerà più chiaro perché parleremo di Fosco le voglio dire con Fosco lo diventerà più chiaro anzi scusate se abbiamo due minuti esatti perché io io sono dell'idea che la cosa che rende tutto più chiaro sia sempre sia sempre il testo vediamo se faccio in tempo ascoltatemi un secondo tenendo conto che questa non è una poesia pienamente romantica è una poesia neoclassica vedete adesso vi forse vi faccio capire cosa vuol dire l'avere delle emozioni che stanno bollendo e stanno trasbordando stanno per buttare via il coperchio questa è una bellissima poesia di Ugo Foscolo ve la leggo e chiudiamo qua forse perché della fatal quiete tu sei l'immago a mesi cara vieni o sera e quando ti corteggian liete le nubi estive e i zeffiri sereni e quando dal nevoso aere inquiete tenebre e lunghe all'universo meni sempre scendi invocata e le secrete vie del mio cor e le secrete vie del mio cor suavemente tieni questa è una poesia neoclassica ciò possiamo rendere conto perché guardate quiete immago viene dal latino immago vuol dire immagine c'è c'è un lessico ricercato e aulico ma guardate fatal quiete forse perché è fatal quiete tu sei l'immago vuol dire io ti a me sei cara sera perché sei come la morte e quando dal nevoso aere inquiete quale sera mi piace mi piace la sera tempestosa inquieta invernale tenebre lungo all'universo meni perché mi piace questa sera perché mi tiene sotto controllo le segrete vie del mio cuore che sono quelle passioni di cui vi parlavo prima ora ascoltate e poi vi lascio vagar mi fai con miei pensieri sull'orme che vanno al nulla eterno e intanto fugge questo reo tempo e van con lui le torme che vi dicevo prima il poeta romantico neoclassico in questo senso Foscolo è neoclassico come penna ma è romantico come cuore è un poeta che non si sente a suo posto come ve lo esprime Foscolo che questo reo tempo questo tempo colpevole di essere sbagliato tirannico di deludermi e ora ascoltatemi qua delle cure onde meco egli si strugge e mentre io guardo la tua pace dorme quello spirito guerriere che nel cor mi rucce questo è il romanticismo o meglio detto questo è il neoclassicismo di Foscolo che è la via italiana a romanticismo un po' di controllo lessicale di stampo neoclassico ma sotto questo controllo c'è lo spirito guerriere che rugge per uscire e con questo sperando di avervi chiarito qualche dubbio ci vediamo sabato sabato faremo finiremo questa slide sulla parte del romanticismo e faremo finalmente Foscolo lo spirito guerriere che entro mi rucce ragazzi come sempre ricordiamo le parole del presidente Obama ci apputiamo fare yes we can some ways yes some in some ways we can ciao ciao come al solito se non vi è chiaro qualcosa scrivetemi scrivetemi da qualche parte vedo che c'è un po' di ritardo tantissimo ritardo perché nel live siamo arrivati solo mo al coso vuol dire lasciare un po' di streaming lo streaming scrivetemi 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 così so come calibrare meglio la lezione la lezione di sabato vi dico questa cosa riguardante zoom se ci sarà tempo e modo di provare zoom la faremo su zoom se non c'è tempo e modo la faremo con youtube live come questa arrivederci ci vediamo